SLEEPING DOGS Mio dio basta Eh beh vabbè forse è troppo esagerato Scusatemi ancora Basta Andiamo avanti va È meglio forse è meglio Dimenticare questo Questa cosa bruttissima che ho fatto Basta Basta con piangersi addosso Non si fanno queste cose Capisci Scusatemi 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 Capisci E' un po' di un giro 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 Questa traduzione In Cinese Scusatemi La vecchia La vecchia della mensa Un po' di un giro Ragazzi Scusatemi 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 con chi sta parlando questo? con i sacchetti le parla con i sacchetti oh non c'è... ma non siete ben cazzati però c'è vabbè andiamo chiedi a kwang dove si trova ming oddio cos'è la freccia? ah il cellulare ma certo schede cos'è schede bloccata 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 ah rapporto operativo il mio contatto è violento impulsivo ma poco scaltro non ha ricevuto alcuna istruzione a volte non riesce a gestire nemmeno cospirazioni criminali di basso livello ahah vergogna ok va 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 via via il cellulare via il cellulare via ok allora devo andare da questo come si chiama? ming bong bing bong bing bong bing bing cio esattamente ah questo qui ok E' vero che ti guarda Ma certo! Io sono quello che vende i cd che sa tutto Ecco Dietro all'angolo? Ma come? Ho dovuto chiedere a questo per andare dietro l'angolo? Ma dai, sono Ah, quella è ming Il signor ming Oddio, che casino Vieni qui immediatamente Dove scappi? Dove scappi? Vieni qui Ebbe allevatevi di mezzo Eccoli Cioè eccolo Oddio Via 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 Dove sei? Brutto coglione vieni qui Ti ammazzo sai Vabbè per Per rendere un po' la situazione più realistica Vieni brutto coglione Anzi Mi capisci quando parlo in cinese? Sì? Spero di sì A meno che tu non sia un altro di quelli Mezzi cinesi Ho detto che dovevo dire orientale a posto di cinesi Vabbè Non l'ho detto Mentivo Quanto sono cattivo Ebbe via Mamma mia Mi butta contro la gente Dove te la butto la gente Sai? Sì? Forse l'avrei intuito L'avrei intuito Spero Faresti meglio ad avere paura perché io lo faccio Oddio Eh che La solita Marmaglia che non sa fare a botte Oddio Non ci vedo Non ci vedo Non ci vedo Fammi andare da un'altra parte Che non ci vedo Ok Dai Fatevi sotto Olè Oh 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 Non si fa Non si fa Oh Ahia Non hai visto una cosa del genere Oh senti Oh Ehi 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 Fanculo Cerchi di proteggerti eh Proteggiti da questo Cogliono Vieni 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 Ti faccio vedere io Dove sono? Qualcuno? Ah Sempre lui Vabbè Allora l'hai voluto tu Ehi 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 Vieni Su Perfetto Che cosa Devo lasciare in pace Accolta da dove è uscito Forse ho capito da dove se l'ha fatto uscire Oddio ma quello si è fatto male da solo Oh mio Dio Oh Ehi Io ancora imparò a far a botta Ma quando imparerò bene Lo faccio vedere io Ai Oddio Cioè questo C'ho un calcio che 56 di piede Ehi Ehi Calma Ehi Che cosa è? Tipo furia questa Ma come un po' Ma come un po' Primo detto Sì Ehi So Aia Tu provaci Bastardo Aia Porca miseria Mi ha sfregiato secondo me Non si è fatto niente invece Mi premo il tasto destro Oh Cos'è stato quella cosa La Tekken Vedi che la fa Faccio la miseria Ancora Forse non hai capito bene Non hai capito Io ti ficco dentro le ve Come Ma come Ok questa è la seconda volta che ci riprovo Lo dico Ho tagliato ma è la seconda La seconda volta che ci riprovo Allora Stavolta sono senza pietà perché Veramente Mi avete rotto le saccatele Dai Dai Su Dai Su Dai Ecco Almeno mi sto facendo Mi sto allenando Perché devo imparare bene Perché due colpi Come un imbecille all'aria Ho So So Tue 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 Do E E Yeah Yeah Non è La La Cinesi Ehi Fatevi sotto Tutti e due Tu provati a restare con quel piede rotto Sta trocoglion Dai vieni Ah questo coltelluccio Dai che cosa fa Dai Ha C'è la gamba di ferro Ehi Dai dai Avvicinati Ah si Non è vero non era lì Va bene va bene Sorpoglion Va bene sorpoglion Va bene sorpoglion Va bene sorpoglion Bene Ma Ma Accordo di che Ma non possiamo lasciarlo Non è sentire Bene, me ne vado. Uuuuh, rapporto missione completa, in seguimento al mercato. Torna al gioco. Ricompense abito di Rico di Just Cause 2. I DLC si fanno sentire. Ehi, un appartamento. Non me l'aspettavo. Questo gioco si fa sempre più GTA 4. Ha salvato. Adesso ci alziamo. E ci andiamo a fare una bella cagata. E sotto questo cielo... Volevo dire... Un Mac. Ho sbagliato. Cos'è un televisore? Finto Mac? Vabbè. Allora... Con questo... Con questa immagine del guardaroba... Oddio. Con questa immagine del guardaroba io vi saluto. Con questo... Anzi, con questa immagine di... Questo vestito di Just Cause 2. Di Rico. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video... Qualunque... O dovunque... O quando... Addirittura... Quando mai ci sarà? Ehm... Io vi saluto. Ciao. Ciao.